Buongiorno ragazzi, sono Lox, bentornati al nostro appuntamento sui fatti e l'opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Lunedì è il giorno nel quale mi occupo della pallacanestro italiana con la partita che ho scelto di seguire nella domenica. In questo caso la scelta è caduta facilmente sul big match della giornata, ovvero la sfida salvezza Fortitudo-Bologna contro Napoli. Un'occasione importantissima per la Fortitudo che però l'ha mancata, ha perso 56-64 e quindi la formazione di coach Martino retrocede clamorosamente in serie A2. Prima di andare avanti con il video ricordatevi, qualora vi dovesse piacere, grazie per un like, un mi piace, grazie ai tantissimi iscritti degli ultimi giorni, grazie al sostegno che hai dato al mio canale. Come detto, sfida salvezza, quindi come già avvenuto in passato, classicamente una partita molto emozionante, ancora nella stupenda cornice del paradozza che solo qualche giorno fa aveva già visto la bellissima partita della Virtus contro Ulm in Euro Cup. Stavolta ci si giocava tutto, ci si giocava la chance di rimanere in serie A perché la Fortitudo era 1-0 negli scontri diretti con Bonapoli, vincendo anche questo sarebbe nato 2-0 e avrebbe rimandato tutto il verdetto all'ultima giornata. È stata una partita di incredibile equilibrio, non particolarmente bella sicuramente, come testimonia, il punteggio veramente basso, 5-6-6-4, non si è arrivati a 30 punti neanche alla fine del primo tempo, che è finito 29 pari, però c'è stato grande patos, grande emozione, la partita per uno spettatore neutrale è stata sicuramente molto emozionante da seguire per quanto, ripeto, di valore tecnico, probabilmente dubbio, comunque non eccezionale. Da notare che si affrontavano il sesto attacco contro il nono, quindi Fortitudo riduce peraltro settimana scorsa dall'esatto contrario, una brutta sconfitta sul campo di Varese subendo più di 100 punti. Stavolta è mancato proprio completamente l'attacco, anche dei punti subiti, la quindicesima squadra che subisce più punti, la Fortitudo contro l'undicesima, ma invece è uscita questa gara completamente bloccata, vedremo poi le percentuali di tiro assolutamente assurde. Il dato fondamentale della gara però, prima di entrare anche nel dettaglio dei singoli, Napoli, seconda squadra a rimbalzo, contro la Fortitudo, sedicesima e ultima squadra a rimbalzo, si è visto, Napoli ha vinto 54 a 37, ha preso ben 15 rimbalzi in attacco, il che gli ha permesso di avere ossigeno nel momento in cui proprio non si segnava mai, come parecchie volte è successo nel corso della gara. Il successo di Napoli non fa comunque una piega, la Fortitudo ha deluso molto in troppi protagonisti, e adesso entriamo a parlare nel dettaglio. Bologna prima di tutto, un drammatico 10 su 18 della lunetta, che in una partita così equilibrata ha fatto la differenza rispetto al 12 su 14, 86% di Napoli. Il desaparecido della giornata, Duram, 3 punti, 1 su 8, tremendo. Ceram Populos, 5 punti, 2 su 8. Altre volte l'ho visto giocare veramente bene in attacco, stavolta è completamente mancato, ma soprattutto sono due giocatori di Bologna che credo abbiano completamente mancato l'appuntamento. Al di là di Frazier che nel finale ha preso quasi tutti i tiri negli ultimi due minuti di siccità della Fortitudo sbagliandoli, però non ha trovato realmente mano da questi compagni, soprattutto due, Benzing, 1 punto, 1 su 10 al tiro, tra cui alcune tabellate veramente oscene, una prestazione totalmente negativa per il tedesco, e poi la grande delusione della giornata Aradori, 4 punti, 2 su 7, errori anche a canestro aperto, una prestazione veramente troppo di livello basso per una partita così importante da parte di un giocatore che al contrario avrebbe dovuto aprire la strada. I due giocatori invece dei quali mi piace parlare in termini positivi sono sicuramente Grosel, 19 punti, 8 su 12, 9 rimbalzi, 28 di valutazione, ok, il drammatico 3 su 8 della lunetta sicuramente ha inciso e a un certo momento Napoli ha anche scelto in un paio di circostanze piuttosto che subire l'ovvio canestro da sotto di Grosel, falli fallo per vedergli sbagliare i tiri liberi dalla lunetta, però quantomeno ci ha combattuto, ci ha provato, ha dato veramente l'anima. L'altro giocatore del quale mi piace parlare è Procida, per lui 5 punti in 23 minuti, una prestazione agonistica come spesse volte sa fare, però coach Martino ha chiamato time out nel finale e la disegno o comunque la conclusione è una delle finali decisive con Bologna che doveva ormai recuperare la presa Procida. Ora magari mi sembra con tutti questi altri califfi o pseudotali in squadra a far prendere proprio Procida l'ultima conclusione non mi è sembrata una decisione particolarmente illuminata. Venendo alle percentuali, la fortitudo ha tirato con il 44% da 2 e con il 16% da 3, 4 su 25, ma l'altra parte Napoli ha vinto tirando peggio della fortitudo perché da 2 ha fatto il 42% e da 3 ha fatto 4 su 24, quindi il 17% non è vero, uno meglio, uno per cento meglio. Quindi si sono equivalzi anche da questo punto di vista, ha vinto Napoli, credo, per la maggiore presenza sicuramente per i rimbalzi e per la capacità di avere qualcosa in più proprio nel rush finale, dimostrazione di McDuffie, 15 punti, 6 su 13, 7 rimbalzi, mi ha avviso l'MVP della gara perché è il giocatore che nel quarto periodo ha messo il turbo ed è riuscito a fare tutto quello che serviva di fare e quando vince prima non gli era riuscito. Goudaitis ha fatto pari e patta in un gran bel duello con Grosel, 14 punti, 6 rimbalzi, ma ha fatto mare sotto canestro e poi da notare Uglietti sicuramente che ha giocato una buonissima partita soprattutto in apertura di terzo quarto quando due suoi canestri hanno dato un piccolo strappo a favore di Napoli che la fortitude ha dovuto soffrire per recuperare prima o poi che lo stacco sia avvenuto nel finale perché solo negli ultimi due minuti si è creato questo disavanzo. Da notare Rich, 11 punti, 4 su 16 al tiro e Parks, 9 punti, 2 su 14 al tiro. I due hanno combinato 6 su 30 al tiro, però 12 rimbalzi per Parks e 5 su 6 della lunetta. Napoli si salva, si salva, non so quanto fosse necessario veramente cambiare coach Sacripanti con il quale mi sembrava che Napoli giocasse una palla canestro un pochino più allegra anche l'attacco, ma sicuramente era entrato in un momento di sconfitte consecutive, coach Buscaglia ha portato a casa questa salvezza che non era così scontata nel finale e ha vinto una partita sicuramente molto importante. Hanno arbitrato Paternico, Beni, Spaglia lunga, come dicevamo una coppia sicuramente non all'insieme della novità, però hanno arbitrato molto bene, il voto è 7 a tutti e 3. Ricordo due o tre situazioni solo, una situazione confusa dove un probabile fallo di Benzing non fischiato, dall'altra parte c'è stato un piede, un giocatore forse di fortitudo che è uscito dal lato e qui Paglia lunga non ha fischiato il fuori, poi con invece un corretto fallo sul tiro, sempre forse di Benzing, quello e poi un'altra situazione dove probabilmente Ricci aveva sfondato su Procida e gli arbitri hanno scelto di non fischiare. Ma a parte quello mi è piaciuto il metro deciso adottato dai tre direttori di gara, mi è piaciuto anche il fatto che abbiano saputo accettare le emozioni che sicuramente c'erano in questa partita, ho trovato un arbitraggio veramente di qualità e veramente all'altezza per questa partita. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa gara, di questa retrocessione fortitudo e di questo campionato che si avvicina ai play-off. È un campionato, diciamo la verità, non bellissimo probabilmente, ci sono troppe squadre, è il basket di oggi comunque. È questo basket costruito ogni volta con squadre pieni di giocatori alle loro prime esperienze o comunque che arrivano da campionati esteri, insomma è difficile amalgamare, è difficile creare veramente dei nuclei. Ogni tanto ci si riesce, si ottengono risultati straordinari come Tortona, piuttosto che come Brescia, ma nel campionato siamo pieni anche di squadre che onestamente sbarcano solo in Lunario. Comunque fatemi sapere un po' la vostra opinione su questo torneo, siamo vicini ai play-off che saranno comunque, credo, divertenti da questo punto di vista. E con il basket ci sentiamo in settimana, abbiamo, sulla partita dell'anno, Valencia-Virtus per vedere chi andrà in finale di Euro Cup. Grazie, ciao a tutti e un bacio da Lox.